La idea di Blastem che abbiamo condiviso come assessorato alla scuola patrocinandola è quella di utilizzare la peer education, cioè l'educazione tra pari, che è un modello che la comunità scientifica ha acclarato come positivo da un punto di vista didattico-pedagogico, perché quando è uno come te, anzi uno che tu ammiri proprio perché l'hai scoperto sulla rete, che ti spiega e ti fa capire che cosa devi fare, che cosa non devi assolutamente fare e che cosa non devi consentire che altri facciano, beh quando accade questo naturalmente l'intervento sui ragazzi è più forte, più significativo.